No, passiamo sempre, poi lo stoppe. Allora, fate due giri completi, a termine dei quali vi darò la bandiera a scacchi, che fa presa lanciata. Va bene. La partenza è al semaforo, quando il semaforo sono a destra e a sinistra, vedete, ci sono le leggi luminosissime. Quando il semaforo è rosso, mancano 10 secondi, gli ultimi 5 sono scanditi, al verde partite. Leva, d'antili foglio? Ma di lui, diciamo, sarco, ma ti composto il potevo. Ok. 5,4,3,4... e e e e e e e e e Alla prossima 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 Alla prossima